ben ritrovati di nuovo su review you oggi vado a recensire insieme a voi queste bellissime lampadine lucine per abbellire il vostro albero di natale o anche la vostra casa o anche perché no l'esterno allora lo acquistate su amazon a un prezzo di 29 euro al momento potete guardare il prezzo semplicemente andando a verificarlo tramite il link che vi lascio in descrizione del prodotto l'azienda ha la possibilità di da la possibilità di acquistare diverse tipologie di lampadine tra cui appunto abbiamo 500 lampadine 50 metri di cavo che sono quelle che ho acquistato io al prezzo che vi dicevo e devo dire che per un albero di due metri e 40 riescono a illuminarlo egregiamente quindi penso sia stata la scelta giusta ottimale poi abbiamo invece 200 lampadine che hanno sempre la luce diciamo bianca calda cavo verde poi 300 sempre un bianco caldo come lampadina quindi fate la scelta giusta per quello che vi serve come vedete poi alla fine c'è un cavo che va alla corrente all'incirca sono tre metri eccolo qua e porta poi con una presa un'alimentazione direttamente alla presa asciucco dove dovrete collegarla classe di efficienza energetica a più 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 consumano veramente poco e come leggete anche adesso mi avvicino da qua ip 44 vista indicare che c'è una protezione da corpi solidi fino a un millimetro e da spruzzi d'acqua generali quindi potete in teoria mettere anche all'esterno qua c'è un bottone che voi andate a premere e mi permetterà di cambiare le otto combinazioni luminose vado a premerlo e di zoom sull'altro prima illuminazione seconda devo dire che è veramente funzionale anche il fatto di poter mettere il timer in modo che si accendono e spengono automaticamente come fare basta prendere premere scusate per un po di secondi sul bottone finché si illuminerà di verde cosa vuol dire che da questo momento per otto ore le lampadine si illumineranno successivamente si spegneranno in automatico quindi supponiamo che adesso sono le sette di sera tra otto ore le lampadine si spegneranno quindi alle 3 di mattina si spegneranno e poi successivamente si riaccenderanno comoda questa funzione per disattivarlo basta ripremere qualche secondo il timer è disattivato io sinceramente non ho fatto uso del timer però vi posso dire che per chi lo volesse c'è questa possibilità andiamo a vedere un attimo insieme da vicino il cavo che è intrecciato e di un verde scuro robusto quindi anche la lampadina in sé appare bella solida quindi un prodotto che devo dire mi ha colpito molto e come vedete per due metri e quaranta adesso non sono molto a fuoco comunque per due metri e quaranta mi permetterà due metri e quaranta di albero vi permetterà di coprirlo totalmente sono 500 lampadine questo è quanto vi lascio ripeto il link in descrizione così vi assicurate di comprare il prodotto che effettivamente sto recensendo e non altri prodotti devo dire che ho guardato diverse lampadine diverse catene luminose ma questa dal profilo tecnico e dal profilo del materiale mi aveva convinto e non mi sono sbagliato per questa recensione è tutto se avete domande non esitate a porvele